L'Udc ha lavoro per il nuovo partito della nazione, così lo ha definito recentemente in una tre giorni politica Todi, il leader dell'Unione di Centro Pierferdinando Casini. Adesso tocca alla base dell'Udc lavorare per costruire quello che nei fatti potrebbe essere il terzo polo in Italia. Marcello Vernola, dirigente nazionale dell'Unione di Centro, a Bari ha cominciato a radunare chi guarda con interesse al partito della nazione per una costruzione dal basso, dice l'ex eurodeputato. Nel capologo pugliese anche Adriana Polibortone che porterà il suo movimento, Io Sud, verso il nuovo soggetto politico. In Italia dovrebbero aderire i popolari di De Mita, la rosa bianca di Pezzotta, i cattolici che hanno abbandonato il partito democratico. È una forza politica che difenda l'unità nazionale in un momento in cui bisogna innanzitutto tutelare i nostri cittadini, il nostro paese dalla grave crisi finanziaria e tenere unite tutte le forze sane del paese rilanciando anche il progetto della grande Europa a cui il partito popolare europeo ha lavorato.